Fine settimana di lacrime sangue sul fronte degli eccessi pre-zona arancione. Le lacrime agli occhi vengono vedendo le scene di assembramenti e bagordi che anche nella nostra zona si sono verificate, ricalcando lo stesso copione visto da nord a sud. Il sangue è quello che ha versato un poliziotto del commissariato di Fano finito al pronto soccorso del Santa Croce per le conseguenze di un arresto movimentato sabato pomeriggio nei giardini della Rocca Malatestiana. A finire in manette un diciottenne in evidente alterazione alcolica che si è scagliato con vemenza sia verbale che fisica contro la pattuglia che eseguiva i controlli di routine nel centro storico. Il faccino rosa era parte di un manipolo di una decina di coetanei notati dagli agenti intenti a consumare alcolici come dimostrato dalle numerose bottiglie lasciate a terra. Questa mattina il diciottenne dopo la convalida è stato condannato ad un anno e otto mesi per resistenza a lesioni a pubblico ufficiale e otto mesi per esserci allontanato dagli arresti domiciliari. Ma il bilancio del fine settimana si infoltisce anche con la chiusura di un noto locale nel cuore del centro storico per cinque giorni, constatata dalle forze di polizia la presenza di avventori ben oltre l'orario consentito. A chiudere lo sconsolante scenario un bisognino impellente ad un avventore di un locale pizzicato urinare per strada, costato la bellezza di ben 3.333 euro di sanzione amministrativa.